Notte di fuoco quella tra il 4 e il 5 febbraio in provincia di Sondrio e in Alto Lario, con numerosi incendi che si sono susseguiti fino all'alba a richiedere l'intervento degli uomini dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono alzate per prime nel tardo pomeriggio a Monte Mezzo, comune della provincia di Como, sopra l'abitato di Sorico, all'interno della pineta Montalto a circa 500 metri di quota, con le lingue di fuoco ben visibili anche dalla bassa Valtellina e Valchiavenna. In cenere, alcuni ettari di bosco, pompieri e protezione civile hanno impiegato diverse ore per spegnere il rogo, domato completamente solo nella tardanotte. Tornando in provincia di Sondrio, poco dopo mezzanotte, una squadra dei pompieri del capoluogo valtellinese è intervenuta in via Segrada, nel comune di Albosaggia, per domare ancora una volta l'incendio di una autovettura parcheggiata vicino ad un'abitazione. Iniziano dunque a preoccupare i casi di mezzi dati alle fiamme nel mandamento. Nemmeno un'ora dopo il termine dell'intervento, verso le 2.15, una nuova chiamata d'emergenza ha portato i vigili del fuoco con l'autoscala e l'autobotto in via Paribelli a Sondrio, dove è andato a fuoco un divano, all'interno di un appartamento. L'intensa giornata dei vigili si è infine conclusa là dove era cominciata, in Alto Lario in Val Chiavenna, dove dalle 4.20 alle 6.30 diverse squadre del distaccamento di Mese e di Morbegno sono state impegnate nei territori di Sorico, Samolaco e Prata Camportaccio per alcuni roghi di sterpaglie andati fuori controllo.